Eccolo il monumento funebre di Pedro Alvarez de Toledo che dal 1532 e per vent'anni fu vicere di Napoli L'imponente scultura realizzata da Giovanni Merliano Danola si trova nell'abside della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli ed è stata restaurata col contributo dell'associazione Friends of Naples e dell'azienda Capri Group Grazie 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 Dal 2019 al 2023 sono stati diversi gli interventi di restauro nella Basilica per effetto della collaborazione fra istituzioni pubbliche e mecenatismo privato Il primo monumento che si incontra arrivando dal porto così come era stato immaginato da Don Pedro da Toledo, questo luogo diventa un luogo di accoglienza ma anche di rappresentazione della bellezza della città. Fa parte di questo programma di partenariato pubblico-privato che noi stiamo stimolando e rafforzando moltissimo e grazie a Friends of Naples e agli sponsor e ai mecenati che hanno sostenuto questo restauro è un risultato straordinario per la città e per la bellezza collettiva. Grazie